È visitabile fino al 7 febbraio 2014 a Marsiglia in Francia presso la sede dell'Istituto Italiano di Cultura la mostra Piazze del Piemonte, architettura urbanistica, eventi, quotidianità del Consiglio regionale. Le piazze piemontesi sono illustrate in tutto il loro prestigio che testimonia l'impegno e la volontà di presentare il Piemonte come vetrina culturale da scoprire e da vivere.